Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata all'igliori 5 migliori misuratori di pressione. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Migliori. Al quinto posto, abbiamo la Omron M7 Intelli. Uno dei misuratori più precisi in circolazione, l'Omron M10 It, non è più offerto ma una versione più recente arriva sul mercato, in particolare l'Omron M7, ha lo stesso modo una garanzia di affidabilità in tutta la scheda. L'edificio e la costruzione di alta qualità sono impressionanti, sia alla base che il bracciale rimangono in realtà sviluppati per garantire un ottimo ritorno con il tempo, quindi è un oggetto eccezionale per coloro che intendono fare un uso quotidiano e anche costante. Vari altri disegni si logorerebbero sicuramente convenientemente, ma l'Omron M7 no. Inoltre progettato per adattarsi a braccia di grandi dimensioni. Il monitor è enorme e facilmente leggibile, come l'Omron ci ha costantemente abituato. Al numero 4, abbiamo Micro Leaf A6 PC. Proprio qui c'è un contatore che ha una caratteristica extra affascinante, infatti questo PC Micro Leaf A6 è allo stesso modo in grado di identificare la fibrillazione atriale, necessaria per prevenire i colpi. Ha un bracciale estremamente comodo e anche molto facile da usare, fantastico per braccia tra i 22 e i 42 cm. Il PC A6 utilizza la tecnologia MILD più modern per una misurazione in quanto il nome suggerisce che è molto più comodo dei soliti metri. Ci vogliono tre dimensioni di fila e quindi calcola la media per fornire costantemente un risultato davvero esatto e specifico. Il display indica inoltre i movimenti del braccio, dell'orologio e del calendario. Al terzo posto, abbiamo la Sanitas SBM21. Il punto di forza di questo Sanitas SBM a 21 metri da Beurer è la sua bassa invasività, in realtà funziona in modo molto discreto senza essere imbarazzante sul braccio. Migliaia di dimensioni possono essere conservate così come il modello di dimensione effettivo nel tempo può essere mantenuto sotto controllo, senza problemi per coloro che, ad esempio, sono in trattamento e richiedono anche di comprendere l'evoluzione del risultato dei farmaci che prendono. Il fiore all'occhiello di questo prodotto è sicuramente il rilevatore di aritmia che avverte inviando un suono in caso di battito cardiaco non comune. Al numero 2, abbiamo il Leica BM 2301. Leica è anche un marchio superbo estremamente noto per i suoi monitor ad alta pressione, e questo è probabilmente il suo prodotto di punta per l'uso della residenza. Uno sfigmo manometro elettronico molto resistente, con una fascia da braccio molto facile da indossare anche per chi va davvero all'inizio con questo tipo di innovazione. C'è un'attrazione confortevole che indica come usarlo correttamente per evitare di scivolare nel senso e per questo rischiare di compromettere la dimensione. Molto molto facile da usare, non richiede abilità uniche. Il pacchetto manca dell'istanza, quindi è necessario averne uno dato che si tratta di cose fragili che richiedono di essere salvate con il giusto trattamento e attenzione. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Lomeron e Altcare M6. Lomeron è probabilmente uno dei marchi leader più noti quando riguarda i monitor della pressione sanguigna, così come questo è assolutamente tra i prodotti leader, sono stato consigliato da un amico medico e sono davvero contento di questa acquisizione. Il punto di forza di questo misuratore è sicuramente il suo confort sul braccio, infatti mio padre ha trovato la versione precedente che possedevamo molto scomoda, e quindi in alcuni casi è stato difficile incoraggiarlo a valutare la sua pressione sanguigna, ma con questo non sembra più avere problemi. Lomeron M7322 UEM6 Convenience It è un misuratore di braccio elettronico, è dotato di un bracciale di generazione più recente con tecnologia IntelliCover. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale.